I minatori sono entrati nel quarto mese di sciopero, ma il governo ribadisce che chiuderà, come annunciato, 20 pozzi con la perdita di oltre 20.000 posti di lavoro. Senza quella miniera il paese è finito. Queste comunità di minatori sono prese di mira, esattamente come noi. È la cosa giusta da fare. Mike, sono arrivati i tuoi gay! Allora, signori, c'è raggiunto un altro dei nostri gruppi di sostegno. Lesbiche e gay sostengono i minatori. Siete i primi gay che incontrano. E voi i primi minatori che abbiamo mai conosciuto. Tutto il paese ci ride dietro. Andrà tutto bene quando cominceranno a parlarsi. Ma che cavolo pensi di fare? Batti a cercare un gay o una lesbica, cammina. Ma poi si fanno un'idea sbagliata. Ma certo, perché tu sei talmente irresistibile. Quando fai una battaglia contro un nemico tanto più forte, tanto più grande di te, scoprire di avere un nemico di cui non conoscevi l'esistenza, è la più bella sensazione del mondo. Quello che mi hanno detto sulle lesbiche mi ha lasciato di stucco. Ma siete tutte vegetariane? Lo vedete cosa abbiamo fatto? Con la nostra solidarietà abbiamo fatto la storia. No, signore, è un locale per soli uomini. No, non rompere, noi vogliamo vedere tutto. Anche il sadomaso. Dove sono le mie lesbiche? E questo chi è? Ragazze, quanti ricordi? Ma queste donne non dormono mai. Ma queste donne non dormono mai.